La lettera rubata. Nihil sapiensi odiosus acumine nimio. Nulla è più odioso alla saggezza dell'eccessiva intelligenza. Seneca. A Parigi, poco dopo l'imbrunire di una sera nera e tempestosa dell'autunno 1811, mi concedevo la duplice voluta della meditazione di una pipa di schiuma. In compagnia del mio amico C. Augusto Fenne, nella sua piccola biblioteca au studiolo, au troisième numéro 53, Rue du Nau, Faubourg Saint-Germain. Per oltre un'ora eravamo rimasti in silenzio. A un osservatore esterno, ognuno di noi due poteva sembrare, profondamente ed esclusivamente, preso dalle elente spirali di fumo che appesantivano l'atmosfera della stanza. Io, per conto mio, discutevo tra me e me alcuni degli argomenti che erano stati al centro della nostra conversazione nella prima parte della serata. Intendo i fatti della Rue Morgue e il mistero sull'assassinio di Marie Rogée. Perciò mi sembrò una sorta di coincidenza quando la porta del nostro appartamento si aprì per far entrare una nostra vecchia conoscenza. Monsieur G, il prefetto di polizia di Parigi, fu accolto con cordialità perché l'uomo era insieme tanto amabile quanto spregevole e noi non lo vedevamo da alcuni anni. Visto che eravamo rimasti seduti al buio, Dauphine si alzò per accendere una lampada, ma si rimisa a sedere senza farlo, sentendo G dire che era venuto per consultarci. O meglio per chiedere il parere del mio amico su una questione di lavoro che gli stava creando una quantità di guai. Se è un fatto che chiede riflessione, osserva Dauphine, trattenendosi dall'accendere la lampada. L'esamineremo meglio stando al buio. Ancora un'altra delle sue bizzarrie, disse il prefetto per il quale era bizzarro tutto ciò che superava la sua capacità di comprensione e che perciò viveva in mezzo a un mondo di bizzarrie. Verissimo, disse Dauphine, offrendo una pipa all'ospite e spingendo verso di lui una comoda poltrona. E qual è ora la difficoltà? Interveni io. Non un altro assassino, spero. Oh no, niente di simile. Il fatto, il lavoro è in verità semplicissimo e non ho dubbi che potremmo gestirlo abbastanza bene da soli, ma ho pensato che a Dauphine non sarebbe dispiaciuto conoscerne i particolari, visto che si tratta di una cosa straordinariamente bizzarra. Semplice bizzarra, disse Dauphine. Proprio, sì, eppure non esattamente. Il fatto è che siamo in grave imbarazzo in quanto è veramente semplice, eppure non ne veniamo a capo. Forse è la sua stessa semplicità che vi induce in errore, disse il mio amico. Che sciocchezze dice, replicò il prefetto ridendo di cuore. Forse il mistero un po' troppo semplice, disse Dauphine. Per amor del cielo, chi ha mai sentito un'idea simile? Un po' troppo evidente. Tuonò il nostro ospite che sembrava divertirsi molto. Oh, Dauphine, lei mi farà morire malgrato tutto. Allora, domandai, di che si tratta? Vi dirò, replicò il prefetto, aspirando una lunga, intensa e meditabonda boccata e accomodandosi nella poltrona. Vi dirò in poche parole, ma prima di cominciare devo avvertire tutti e due che si tratta di una faccenda molto riservata, e che io perderei la posizione che occupo se si sapesse che ho parlato con qualcuno. Vada avanti, disse io. Pure non comincia affatto, disse Dauphine. Insomma, via. Sono stato informato personalmente da qualcuno molto in alto che un certo documento della massima importanza era stato trafugato dagli appartamenti reali. Si sa chi è stato, senza alcun dubbio. È stato visto mentre lo prendeva. Si sa anche che il documento è ancora nelle sue mani. E come si sa? Chiese Dauphine. Lo si deduce chiaramente, replicò il prefetto, dalla natura del documento e dalla mancata comparsa di alcuni risultati che ci sarebbero immediatamente se sortisse dalle mani del ladro. In altre parole, se fosse impiegato per lo scopo per cui costui deve proporsi, alla fine, di farne uso. Cerchi di essere più chiaro? Interveni io. Arriverò fino a dire che questo documento dà al suo detentore un certo potere in un certo ambiente in cui questo potere ha un valore immenso. Il prefetto aveva un debole per il linguaggio diplomatico. Continua a non capire niente, disse Dauphine. Niente? Dunque, questo documento, mostrato a una terza persona di cui non faccio il nome, metterebbe in questione l'onore di una personalità del più alto rango. Questo fatto dà al possessore del documento un potere sull'illustre personaggio di cui sono messi a repentaglio l'onore e la pace. Questo presunto ascendente, intromisi io, dipende dal fatto che il ladro sa che il derubato conosce chi è il ladro. Chi oserebbe? Il ladro, disse G, è il ministro D, che è capace di usare tutto, conveniente o sconveniente che sia per un uomo. La meccanica del furto è stata ingegnosa, non meno che ardita. Il documento in oggetto, una lettera per essere franco, è stata ricevuta dalla persona derubata mentre si trovava da sola nel boudoir reale. La stava leggendo quando improvvisamente fu interrotta dall'ingresso dell'altro illustre personaggio, proprio colui a cui voleva particolarmente nasconderla. Dopo essersi affrettata in vano a tentare di gettarla in un cassetto, dovette lasciarla, aperta come era, su un tavolo. L'indirizzo era visibile, il contenuto era perciò nascosto e quindi la lettera non attrasse l'attenzione. È in quel momento che arriva il ministro D. Il suo occhio di lince coglie immediatamente il valore del documento, riconosce la calligrafia dell'indirizzo, nota l'imbarazzo della persona a cui era indirizzata e ne capisce il suo segreto. Dopo aver trattato qualcuno dei suoi affari, sbrigativamente come suo costume, estrae dalla tasca una lettera quasi uguale a quella incriminata, la apre e finge di leggerla mettendola proprio accanto all'altra. Si rimette a discutere per circa un quarto d'ora di affari pubblici. Tirata alla lunga la cosa, mentre si congeda, prende dal tavolo la lettera che non gli appartiene. Il legittimo proprietario vede ma, naturalmente, non può rischiare di attrarre l'attenzione sul fatto in presenza del terzo personaggio che gli ha accanto. Il ministro se ne va, lasciando sul tavolo la sua lettera senza importanza. Ecco qui, disse Dufain, rivolgendosi a me, questo è esattamente quel che lei cercava per ottenere un potere perfetto. Il ladro sa chi e il derubato sa chi è il ladro. Sì, replicò il perfetto. E da qualche mese a questa parte ha usato ampiamente a fini politici il potere che ha così conquistato e fino a un limite molto pericoloso. La persona derubata è di giorno in giorno sempre più convinta che è necessario recuperare la lettera. Ma chiaramente questo non si può fare alla luce del sole. In breve, spinta dalla disperazione, mi ha affidato questo incarico. Non si poteva, suppongo, disse Dufain, immerso in una nuvola di fumo. Desideraro immaginare un agente più sagace. Lei mi adula, replicò il perfetto. Ma è possibile che questa fosse proprio la sua opinione. E' evidente, come ha detto lei. Interveni io. La lettera è ancora nelle mani del ministro. E' il fatto di possederla e non l'uso che se ne può fare a dargli il potere. Usandola, il potere verrebbe meno. E' vero, disse G. E mi sono mosso con questa convinzione. La mia prima cura è stata quella di procedere a una minuziosa perquisizione della dimora del ministro. Il mio principale ostacolo è dover cercare a sua insaputa. Soprattutto sono stato avvertito del pericolo che deriverebbe dal fatto che sospettasse del nostro piano. Mi pare di sì. Che lei si trovi, Ofe, in un'indagine del genere. La polizia parigina ha fatto più di una volta ricorsa a questa pratica. Certo, per queste ragioni non dispero. Le abitudini del ministro poi mi danno un grande vantaggio. E' spesso assente da casa sua per tutta la notte. I domestici non sono tanti. Dormono a una certa distanza dall'appartamento del loro padrone, poiché sono in gran parte napoletani e si lasciano facilmente ubriacare. E come sapete dispongo di chiavi capaci di aprire tutte le camere e gli uffici di Parigi. Per tre mesi non è passata notte in cui, per gran parte, io non abbia a lungo frugato personalmente il Palazzo D. Ne va del mio onore e, in confidenza, la ricompensa è enorme. Così non ho abbandonato le ricerche finché non mi sono convinto che il ladro era più astuto di me. Ritengo di aver esaminato ogni angolo, ogni più piccolo ripostiglio in cui fosse possibile nascondere una lettera. Ma non ci si può pensare, insinuai, visto come è sicuro che il ministro ha la lettera, che l'abbia nascosta fuori di casa sua. No, è impossibile, disse Dufan. Lo stato attuale particolare degli affari di corte e la natura degli intrighi in cui D, come si sa, è coinvolto, fanno dell'immediata possibilità di uso del documento, della sua possibilità di produrlo istantaneamente, un punto importante quanto il possederlo. La possibilità di produrlo, disse io. Vale a dire di distruggerlo, disse Dufan. È vero, sottolineai, la lettera perciò è evidentemente nella sua abitazione. Quanto all'eventualità che si trovi addosso al ministro possiamo considerarla fuori causa. Proprio così, disse il prefetto, per due volte è stato aggredito da falsi rapinatori che l'hanno scrupolosamente perquisito sotto i miei occhi. Si sarebbe potuto risparmiare la fatica, disse Dufan. D non è del tutto uno sciocco, presumo, e se non lo è, deve aver previsto questi agguati, come cosa normale. Non è del tutto sciocco, disse G, ma è un poeta, e questo, a mio parere, lo porta a un passo dall'esserlo. È vero, disse Dufan, dopo una lunga tirata medita bonda della sua pipa di schiuma. Anche se io stesso mi sono reso colpevole di qualche verso. E se cominciasse con raccontarci i particolari della sua perquisizione? Dissi. In concreto abbiamo proceduto con grande calma e abbiamo cercato dappertutto. Ho una lunga esperienza in queste faccende. Abbiamo perquisito l'intero palazzo, camera per camera, dedicando ognuna le notti di un'intera settimana. Abbiamo poi esaminato i mobili di ogni sala, aperto tutti i cassetti immaginabili e penso che voi sappiate che per un agente ben addestrato non esistono cassetti segreti. Chi si lasciasse scappare un cassetto segreto in una perquisizione del genere sarebbe un incapace. Il compito è talmente semplice. Ogni pezzo di una stanza ha un volume e una sua superficie di cui bisogna rendere conto. A questo fine osserviamo regole esatte. Non può sfuggirci neanche la ventiquattresima parte di un millimetro. Dopo le camere abbiamo preso in esame le seggiole. I cuscini sono stati sondati con quei lunghi aghi che mi avete visto ad operare. Abbiamo sollevato tutti i ripiani dei tavoli. Perché? E talvolta capita che i piani, sia dei tavoli che di ogni altro mobile simile, siano rimovibili proprio per creare nascondigli. E si scavano perfino le gambe dei tavoli per nascondere qualcosa nelle cavità e poi richiuderle. Lo stesso vale per i montanti dei baldacchini dei letti. Non si potrebbe scoprire la cavità col suono? Domandai. Niente affatto. Basta avvolgere l'oggetto dietro una coltre di ovatta. Noi eravamo inoltre obbligati ad agire nel massimo silenzio. Mi sembra impossibile che abbiate potuto smontare, che abbiate potuto fare a pezzi tutti i mobili che potessero diventare un deposito di quel tipo. Una lettera può essere arrotolata in un cilindro non dissimile per forma e volume da un grosso ferro da calza. E in questa forma essere inserito in una gamba di seggiola, per esempio. Ha smontato tutte le seggiole? Certamente no. Abbiamo fatto di meglio. Abbiamo esaminato le gambe di tutte le seggiole del palazzo e le giunture di tutti i pezzi del mobilio con un potente microscopio. Se ci fosse stata la benché minima traccia di una recente manomissione non ci sarebbe sfuggita. Un solo granello di polvere prodotto dal trapano, ad esempio, sarebbe stato visibile come una mela. Ogni alterazione della colla, ogni fessura delle giunture sarebbe bastata rivelare il nascondiglio. Presumo che lei abbia controllato gli specchi, telai e lastre e che abbia frugato letti e coperte, tende e tappeti. Naturalmente, e quando fu così conclusa l'ispezione di ogni singolo mobile, abbiamo esaminato la casa. Abbiamo suddiviso la totalità della superficie in comparti numerati, per non ometterne nessuno. Ogni metro quadrato è stato oggetto di esame microscopico, come prima, comprese le due case adecenti. Le due case adecenti? Esclamai. Deve essere stata una sfacchinata. È vero, ma la ricompensa offerta è enorme. Nelle case avete incluso anche il suolo circostante? Il suolo è interamente pavimentato a mattoni. È stata una fatica relativamente piccola. Abbiamo esaminato il muschio tra i mattoni. Vero intatto. Avrà certamente controllato le carte dd e i libri della biblioteca. Sicuro, abbiamo aperto ogni pacco involucro. Non abbiamo soltanto aperto i libri, li abbiamo sfogliati pagina per pagina, senza contentarci di scrollarli, come fa qualcuno dei nostri funzionari. Abbiamo persino misurato lo spessore di ogni rilegatura con grande minuzia, attraverso l'indiscreto esame del microscopio. Se qualcosa fosse stata inserita di recente nelle rilegature, non avrebbe potuto sfuggire all'osservazione. Cinque o sei volumi, appena usciti dalle mani del rilegatore, sono stati accuratamente sondati con aghi per tutta la lunghezza. Avete esplorato i pavimenti sotto i tappeti? Naturalmente. Abbiamo sollevato ogni tappeto e esaminato le assi del pavimento al microscopio. E le tappezzerie alle pareti? Anche. Avete cercato nelle cantine? Anche nelle cantine? Così, dissi. Avete sbagliato strada e la lettera non si trova nel palazzo, come lei pensava. Temo che lei abbia ragione, disse il prefetto. Ora, Dauphin, cosa mi consiglia di fare? Una nuova perquisizione completa. È inutile, replicò G. È sicuro come il fatto che sono vivo. La lettera non è nel palazzo. Non ho niente di meglio da consigliare, disse Dauphin. Immagino che lei possa descrivere dettagliatamente la lettera. Oh, sì. A questo punto il prefetto, estratta un'agenda, prese a leggere a voce alta una minuziosa descrizione del documento perduto, del suo interno e soprattutto del suo aspetto esterno. Poco dopo, conclusa la lettura, il bravo uomo si congedò da noi più abbattuto e scoraggiato di quanto l'avessi mai visto prima di allora. Un mese dopo, circa, ci fece una seconda visita e ci trovò pressappoco occupati come la volta precedente. Prese una pipa e una seggiola e cominciò a parlare di questo e di quello, finché non intervenne dicendo. Allora, G, che ne è stata della lettera trafugata? Immagino che ora si sia convinto che mettere nel sacco il ministro non è poi tanto semplice. Che vada al diavolo. Sì, ho rifatto una perquisizione, come mi aveva consigliato Dauphin e, come immaginavo, è stata una fatica sprecata. Quale ha detto che è la cifra della ricompensa? Domandò Dauphin. Beh, veramente notevole. Una ricompensa proprio grandiosa. Ma non mi va di dire proprio la cifra. Dirò che non esiterei a pagare di tasca mia 50.000 franchi a chi riuscisse a portarmi questa lettera. In effetti diventa ogni giorno più urgente e recentemente la ricompensa è stata raddoppiata. Ma anche se la triplicassero, io non riuscirei a compiere il mio dovere meglio di così. Ma, certo, disse Dauphin, tirando fuori le parole lentamente dalla bocca insieme alle larghe boccate di fun. Io credo, veramente, che lei, caro G, non abbia fatto in questo caso tutto il possibile. Lei potrebbe fare un po' di più, penso. No? Come? In che modo? Ma potrebbe chiedere consiglio in materia? No? Si ricorda cosa si racconta di Abernety? No. Al diavolo questo Abernety? Al diavolo, certo, e tanti saluti. Allora c'era una volta un ricco, molto avaro, che trovò un espediente per evitare di pagare a questo Abernety un consulto medico. E a questo scopo, durante una festa da amici, intraprese una normale conversazione con il medico, nella quale tentò di insinuare il proprio caso, fingendo che si trattasse di un caso immaginario. Potremmo supporre, disse questo avaro, che i sintomi siano questo e quest'altro. Allora, dottore, cosa gli avrebbe detto di prendere? Prendere, disse Abernety, e certamente prendere consiglio. Ma, disse il prefetto sorpreso, sono seriamente disposto a prendere consiglio e a pagare per questo. Darei sul serio cinquantamila franchi a chiunque mi desse aiuto in materia. Se le cose stanno così, disse Dufain, aprendo un cassetto ed estraendone un libretto di assegni, riempa un assegno a mio nome per la somma suddetta. Quando l'avrà firmata, le consegnerò la lettera. Ero senza parole. Il prefetto, però, era come annientato. Per alcuni minuti restò mutuo e immobile, guardando incredulo il mio amico, a bocca aperta e con gli occhi fuori dalla testa. Poi sembrò ritornare in sé. Rese una penna e dopo un filo di esitazione e di occhi fissi sul vuoto, finalmente riempì e firmò un assegno di cinquantamila franchi e lo consegnò a Dufain attraverso il tavolo. Questo lo controllò accuratamente e lo ripose nel suo portafoglio. Poi, aperto un secretare chiuso a chiave, ne strasse la lettera e la consegnò al prefetto. Il funzionario la guantò quasi morto di gioia. L'aprì con mani tremanti, dette uno sguardo veloce al contenuto, poi inciampando e precipitandosi alla porta. Uscì senza tante cerimonie dalla stanza e dalla casa, senza aver detto una sola parola da quando Dufain gli aveva chiesto di firmare l'assegno. Quando se ne fu andato, il mio amico mi dette qualche spiegazione. La polizia di Parigi, disse, è troppo abile nel fare il suo mestiere. È perseverante, ingegnosa, furba e possiede tutte le qualità richieste dal dovere. Per questo quando G stava illustrandoci nei dettagli il suo modo di perquisire il palazzo D, ero totalmente certo che avesse condotto un'indagine adeguata fin dove possono le sue conseguenze. Dove possono le sue conseguenze? Le domandai. Sì, disse Dufain. Le misure adottate erano le migliori del loro genere e perfettamente eseguite. E se la lettera fosse stata nascosta con la logica che ispirava a quella perquisizione, quei poliziotti l'avrebbero trovata. Non ho dubbi. Risi, semplicemente, ma aveva l'aria ad aver parlato con grande serietà. Allora, continuò, i provvedimenti erano buoni nel loro genere perfettamente eseguiti. Avevano un solo difetto. Non erano applicabili al caso e all'uomo in questione. Il prefetto ha la tendenza a impiegare tutto un genere di mezzi ingegnosi che diventano il suo letto di propuste, su quale adotta forzatamente tutti i suoi piani. Ma sbaglia continuamente, o per troppa profondità o per troppa superficialità rispetto alla materia che tratta. Uno scolaro avrebbe ragionato meglio di lui. Ho conosciuto un bambino di otto anni i cui successi nel gioco, nel pari e dispari, suscitavano generale ammirazione. Un gioco semplice che si fa con delle palline. Uno dei giocatori tiene nel pugno chiuso un certo numero di palline e chiede all'altro se il numero è pari o dispari. Se l'altro indovina, vince una pallina e se sbaglia ne perde una. Il bambino di cui sto parlando vinceva tutte le palline della scuola. Naturalmente seguiva un criterio per indovinare e quello di osservare attentamente l'avversario, valutandone il grado di astuzia. Mettiamo il caso che l'avversario sia un sempliciotto e che sollevando la mano chiusa chieda pari o dispari. Il ragazzo risponde dispari e sbaglia. La volta seguente indovina perché dice a se stesso. Questo sciocco alla prima prova aveva un numero pari e con la sua scarsa intelligenza non potrà che metterne un numero dispari la seconda. Risponderò perciò dispari. Risponde dispari e vince. Con un avversario un po' meno sempliciotto pensa poiché ho detto dispari la prima volta. La seconda questo pensa che non basta una variazione semplice da pari a dispari come ha fatto il primo sciocco giocatore. Visto che un cambiamento così è troppo semplice ripeterà il pari. Dirò pari. Lo dice e vince. Questo genere di ragionamento quello che i compagni chiamano fortuna. Che cos'è in ultima analisi? Semplicemente risposi. Una identificazione dell'intelletto del ragionatore con quello del suo avversario. Proprio così disse Dufain. E quando chiesi al bambino in che modo raggiungeva questa perfetta identificazione che lo portava al successo mi dette questa risposta. Quando voglio sapere fino a che punto qualcuno attento o è stupido? Fino a che punto è buono o cattivo? A quali sono i suoi pensieri in quel momento? Atteggio l'espressione del mio viso sull'espressione del suo. Il più esattamente possibile aspetto di sapere quali pensieri o quali sentimenti nasceranno in me, nella mente o nel cuore, per corrispondere all'espressione. Questa risposta dello scolaro sta alla base di tutta la profondità spuria attribuita alla Rockefeller, alla Bougieve, a Machiavelli e a Campanella. L'identificazione, dissi, dell'intelletto del ragionatore con quello dell'avversario dipende, se capisco bene, dall'esattezza con cui viene valutato l'intelletto dell'avversario. Da un punto di vista pratico dipende da questo, rispose Dufain. E se il prefetto e il suo seguito sbagliano tutto spesso, è prima di tutto per difetto di questa identificazione, in secondo luogo, per impreciso o mancato apprezzamento dell'intelligenza con la quale si stanno misurando. Considerano esclusivamente la propria idea di ingegnosità e cercano di svelare cose nascoste, pensano soltanto a come loro avrebbero voluto nasconderle. Hanno ragione solo nel ritenere che la loro ingegnosità è una fedele rappresentazione di quella della massa. Ma di fronte a un preciso malfattore a cui finezza differisca dalla loro, il malfattore chiaramente li travolge. Questo capita sempre quando la capacità è superiore alla loro, ma è cosa peraltro frequente anche quando è inferiore. Non cambiano mai il loro sistema di indagine. Al massimo, quando sono sollecitati da emergenze insolite, per esempio una ricompensa straordinaria, esagerano esasperando dei loro abituali metodi, ma i principi restano invariati. Nel caso di D, per esempio, che cosa è stato fatto per cambiare il sistema operativo? Che vogliono dire tutte quelle perforazioni, quelle manomissioni, quei sondaggi, quegli esami microscopici, quel dividere tutte le superfici in centimetri quadrati numerati? Non è niente altro che l'esasperazione nell'applicazione di uno o più principi di indagine, basati su un'unica categoria di classificazione dell'umana ingegnosità alla quale il prefetto è stato abituato nella lunga routine del suo mestiere. Non ha visto che non riesce a considerare altre eventualità che chi voglia nascondere una lettera debba servirsi, se non proprio di un buco fatto da un trapado nella gamba di una sedia. Comunque sempre di un buco, di un angolo nascosto, come lo suggerirebbe il tipo di intelligenza che spingerebbe a nascondere una lettera nel buco fatto dal trapado nella gamba di una sedia. Non le sembra anche che nascondigli tanto recherché possono essere utilizzati soltanto in casi comuni e adottati da intelligenze comuni perché in un nascondiglio di qualsiasi genere la sistemazione dell'oggetto occultato, che sia fatta in questo modo, recherché, è fin dall'inizio presupponibile e presupposta. La scoperta, quindi, non dipende dall'alcumen, ma soltanto dalla semplice cura, dalla pazienza dalla tenacia dei cercatori. Quando il caso è importante, per la polizia il caso è importante quando ne viene una ricombenza grande, non si dà mai il caso che vengano meno queste belle qualità. Ora capirà cosa voglio dire affermando che, se la lettera rubata fosse stata nascosta entro i limiti della perquisizione del nostro prefetto, o, in altri termini, se i criteri che avevano guidato questo occultamento fossero rientrati tra i criteri del prefetto, egli l'avrebbe inevitabilmente scoperta. Invece, questo funzionario è stato tratto completamente in inganno. La causa all'origine del suo fallimento consiste nella supposizione che il ministro fosse uno sciocco, perché gode della reputazione di essere poeta. Tutti gli sciocchi sono poeti, così crede il prefetto, che è semplicemente colpevole di una non distribuito medi nel dedurre di qui che tutti i poeti sono sciocchi. Ma è veramente lui il poeta? Chiesi. Ci sono due fratelli, questo so, entrambi con una reputazione di letterati. Il ministro credo che abbia scritto cose notevoli sul calcolo differenziale. Lui è il matematico e non il poeta. Si sbaglia. Lo conosco bene. È entrambe le cose. E come poeta e matematico deve ben ragionare. Se fosse stato un semplice matematico non avrebbe ragionato affatto e si sarebbe messo alla mercea del prefetto. Lei mi stupisce, dissi. Con queste sue idee in contrasto con quel che si pensa normalmente, non vuole annientare un'idea maturata nel corso di tanti secoli. La ragione matematica è da molto tempo considerata la ragione per eccellenza. «Il è a pariè», rispose Dauphin citando Chamfort, «che tutte le pubbliche, tu convincerai su e non si tise, car è la convinzione al più grande numero». Ammetto che i matematici hanno fatto del loro meglio per propagare l'errore popolare cui lei allude e che non è meno erroneo soltanto per il fatto che è propagato con tanta verità. Per esempio, siamo stati abituati, con un artificio degno di miglior causa, a definire analisi e le operazioni algebriche. I francesi sono i primi colpevoli di questo inganno scientifico. Ma se si riconosce che le parole di una lingua hanno un'importanza reale, se le parole traggono senso dal loro uso, allora posso concedere che analisi equivalga ad algebra, più o meno come accade in latino dove ambitius vuol dire ambizione, religio religione o homines onesti, centi di onore. Vedo già, dissi, che è in polemica con qualche algebrista farigino, ma la prego di continuare. Io contesto l'utilità e di conseguenza la validità di una ragione coltivata attraverso ogni procedimento speciale, che non sia la logica astratta. Contesto in particolare la ragione prodotta dallo studio della matematica. La matematica è la scienza delle forme e della qualità. Il ragionamento matematico non è altro che la logica applicata all'osservazione di forma e qualità. Il grande errore sta nel supporre che persino la verità di quella che viene chiamata algebra pura siano verità astratte o generali. Si tratta di un errore tanto grossolano che sono sorpreso dall'unanimità con cui è accolto. Gli assiomi matematici non sono assiomi di verità generali. Questo è vero dalla relazione, di forma o di qualità. È spesso grossolanamente falso relativamente alla morale, per esempio. In questa ultima scienza, molto spesso, non è vero che la somma delle frazioni sia uguale al tutto. Anche in chimica l'assioma non vale. Non vale se si tratta di valutare uno stimolo. Due stimoli, infatti, ciascuno con valore dato, non hanno necessariamente, se sommati, un valore pari alla somma dei loro valori, presi separatamente. C'è un cumulo di altre verità matematiche, che non sono verità se non nei limiti della relazione. Ma il matematico argomenta sempre per abitudine, a partire dalle sue verità finite, come se fossero applicabili in generale e in assoluto, come d'altra parte il mondo ritiene che sia. Brian, nella sua notevole Mythology, cita un'analoga fonte di errore quando dice che, benché nessuno creda più nelle favole pagane, ce ne dimentichiamo spesso e ne tiriamo deduzioni come se fossero realtà esistenti. Gli algebristi, però, pagani se stessi, a certe favole pagane danno credito e ne traggono conseguenze non tanto per un difetto di memoria, quanto per un'incomprensibile confusione dei loro cervelli. Insomma, non ho mai incontrato un matematico puro del quale fidarmi, al di là delle sue radici ed equazioni, o uno che non fosse segretamente sicuro, fideisticamente, che x quadro più px sia assolutamente e incondizionatamente uguale a Q. Provi a dire a qualcuno di questi signori, per prova e per divertimento, che crede alla possibilità che x quadro più px non sia completamente uguale a Q. Quando gli avrà fatto capire che cosa intende, si metta al riparo il più rapidamente possibile, perché indubbiamente tenterà di prenderla a pugni. Quello che intendo, continuò Dufain mentre io mi limitavo a ridere delle sue ultime osservazioni, è che se il ministro fosse stato soltanto un matematico, il prefetto non avrebbe avuto necessità di firmarmi quell'assegno. Lo conoscevo però come matematico e poeta. Le misure che presi erano commensurate alle sue capacità e tenevano conto delle circostanze nelle quali agiva. Sapevo bene che era un cortigiano e un audace intrigante. Pensai che un uomo simile era perfettamente al corrente dei metodi ordinari della polizia. Evidentemente doveva aver previsto, e infatti provano che aveva previsto, tutti gli agguati che gli sono stati tesi. Teni conto che aveva presagito le segrete perquisizioni in casa sua. Tutte quelle assenze notturne che il prefetto aveva salutato come circostanze favorevoli al buon esito finale, mi parvero subito delle risue per facilitare minuziosi perquisizioni da parte della polizia che facessero credere come effettivamente alla fine credeva G, che la lettera non si trovava in casa. Qualcosa mi convinceva che tutte le idee che ho fatto fatica a esporle nel dettaglio poco fa, sulla ripetitività dei metodi polizieschi di perquisizione in cerche di oggetti nascosti, sentivo, ripeto, che tutta questa serie di idee si era necessariamente presentata alla mente del ministro. Questo lo aveva portato obbligatoriamente a sdegnare ogni volgare angolino come nascondiglio. Non poteva, pensai, consentirsi la debolezza di ignorare che il nascondiglio più complicato, il più riposto del suo palazzo, sarebbe risultato aperto come un banale armadio agli occhi, alle sonde, ai trapani e ai microscopi del prefetto. Capì, infine, che sarebbe stato indotto alla semplicità inevitabilmente, anche se non come conseguenza, di una sua scelta deliberata. Ricorderà quanto ridesse il prefetto quando, fin dal primo incontro, suggerì che era probabile che il ministro lo turbasse tanto proprio perché era di assoluta semplicità? Certo, ricordo perfettamente la sua ilarità. Credevo che stesse per avere un attacco di nervi. Il mondo materiale, continua a defend, è pieno di analogie strettissime con l'immateriale. È quanto da colore di verità, di dogma retorico per cui una metafora o una similitudine possono rafforzare un'argomentazione insieme a bellire una descrizione. Il principio della vis-inerzia, per esempio, sembra identico in fisica e in metafisica. In fisica, il fatto che un corpo grande è messo in moto con maggiore difficoltà di un corpo piccolo e che il momento della quantità di moto conseguente è proporzionata a tale difficoltà, non è più vero di quanto sia metafisica. Il fatto che gli intelletti di più vasta capacità, insieme ai più impetuosi, più costanti e con più varietà di movimenti di quelli di livello inferiore, sono quelli che si muovono meno agevolmente, i più imbarazzati e pieni di esitazioni nei primi passi. Altro esempio, ha mai fatto caso a quali insegne stradali sulla parte dei negozi attirino di più l'attenzione? Non ci ho mai pensato, dissi. Esiste, riprese Dufin, un rompicapo che si gioca con una carta geografica. Uno dei giocatori prega l'altro di indovinare una parola data, un nome di città, di fiume, di stato o di impero, insomma, una parola qualunque, tra le tanti esistenti sulla confusa e complicata superficie della carta. Un inesperto del gioco cerca subito di mettere in imbarazzo gli avversari, scegliendo tra i nomi scritti nel modo più impercettibile. I più esperti, invece, scelgono parole che si estendono a grandi cratteri, da un capo all'altro del foglio. Queste parole, come le insegne i manifesti stradali a lettere cubitali, sfuggono all'osservatore proprio perché sono troppo evidenti. È il caso in cui la svista materiale è esattamente analoga alla disattenzione morale con cui l'intelletto si lascia sfuggire le considerazioni che sono troppo vistosamente e palpabilmente ridenti in sé. Ma è un caso, chiaramente, troppo al di sopra o troppo al di sotto dell'intelligenza del prefetto. Non ha mai creduto probabile o possibile che il ministro avesse depositato la lettera sotto il naso di tutti come il modo migliore per impedire a chiunque di vederla. Ma quanto più riflettevo sull'ingegno audace, spregiudicato e fantasioso di Di, sul fatto che il documento doveva sempre restare a portata di mano per farne un immediato uso in caso di bisogno, e sull'altro fatto che era stato ampiamente dimostrato dal prefetto, e che cioè il documento non era nascosto nel raggio incluso in una perquisizione abituale, tanto più mi sentivo convinto che per nascondere questa lettera. Il ministro aveva fatto ricorso al più ingegnoso e sagace espediente di non provare neanche a nasconderla. Preso da questa idea, mi forniti un paio di occhiali e verdi e mi presentai un bel mattino, come per caso, al palazzo del ministro. E trovai Di in casa, sbadigliante, ozioso e curioso, come sempre, con la pretesa di sembrare al massimo delle nuit di è forse la persona più energica che ci sia, ma lo è soltanto quando è sicuro che nessuno lo veda. Per non essere da meno, cominciai a lamentarmi dei miei occhi delicati e della necessità di portare gli occhiali, dietro i quali intanto passavo in rassegna, con cura minuziosa, a tutto l'appartamento, fingendo di essere totalmente preso solo dalla conversazione del mio ospite. Un'attenzione particolare dedicai all'ampia scrivania presso cui era seduto, dove si ammucchiavano alla rinfuse a varie lettere e carte, uno o due strumenti musicali e alcuni libri. Dopo un accurato esame, tirato molto per le lunghe, non notai nulla che potesse destare sospetti particolari. Finalmente, il mio sguardo vagante per la stanza cadde su un misero portacarte di cartone filigranato di nessun valore, appeso per un sudicio laccio blu a un pomello di ottone sotto la cappa del camino. Il portacarte, che aveva tre o quattro scomparti, conteneva cinque o sei carte da visita e un'unica lettera, molto insudiciata e sgualcita, quasi strappata in due come se qualcuno avesse voluto da prima stracciarla del tutto perché senza valore e avesse poi cambiato idea. Vi era impresso il sigillo nero di D, molto in evidenza, ed era indirizzata con minutagrafia di donna al ministro in persona. Sembrava buttata con grande negligenza, persino con sfregio, in uno degli scomparti superiori del portacarte. Mi bastò una rapida occhiata per capire che si trattava della lettera che stavo cercando. In apparenza era sicuramente molto diversa da quella tanto minuziosamente descritta dal prefetto. Qui il sigillo era grande e nero con la cifra D, l'altro era piccolo e rosso con lo stema ducale della famiglia S. L'indirizzo di questa, al ministro, era scritto in modo minuto da una donna. Nell'altra, indirizzata a un membro della famiglia reale, la scrittura era decisa, spavalda, forte. Le due lettere si somigliavano solo per le dimensioni. Ma la radicalità di queste differenze eccessive, la sporcizia, lo stato della carta, cincischiata e strappata, inconciliabili con le vere abitudini meticolose di D, denunciava l'intenzione di sviare un curioso dandogli tutte le apparenze di una carta senza valore. Tutti questi elementi e la vistosa collocazione sotto gli occhi di tutti, che coincideva con le conclusioni cui ero già pervenuto. Tutto avvalorava i sospetti di chi era venuto con l'intenzione di sospettare. Prolungai la durata della mia visita il più possibile, mentre sostenevo un'animata discussione con il ministro su un argomento che sapeva interessarlo molto. La mia attenzione restò concentrata sulla lettera. In questo mio esame fissai nella mente l'aspetto esteriore e la sistemazione del portacarte. Finalmente scoprì qualcosa che elimina ogni mio più piccolo dubbio residuo. Nell'esaminare i bordi della carta mi accorsi che erano più spiegazzati del necessario. Presentavano quei segni che compaiono su un cartoncino piegato e schiacciato con un tagliacarte e poi ripiegato in senso inverso, ma lungo la stessa traccia della ripiegatura originaria. Era la scoperta che mancava. Diventava chiaro che la lettera era stata girata come un guanto dall'interno all'esterno, rindirizzata e risigillata. Augurai il buongiorno al ministro e presi immediatamente congedo, dimenticando una tabacchiera d'oro sulla scrivania. Il mattino appresso tornai per cercare la mia tabacchiera e riprendemmo con accanimento la nostra discussione del giorno prima. Mentre eravamo così impegnati al massimo, si sentì una detonazione molto forte fuori dalle finestre del palazzo, come un colpo di pistola seguita da una serie di grida impaurita e da urla di folla. Dì si precipitò verso una delle finestre, l'aprì e guardò fuori. Nello stesso momento andai diritto verso il portacarte. Presi la lettera e me la mesi in tasca e la sostituì con un'altra, una specie di facsimile, per aspetto esterno, che avevo accuratamente preparato a casa, contraffacendo facilmente la sigla D con l'aiuto di un sigillo di molliche di pane. Il tumulto nella strada era stato provocato dalla follia improvvisa ad un uomo armato di moschetto. Aveva scaricato la sua arma in mezzo a una folla di donne e bambini e si accertò, comunque, che era caricato a salve. Lo considerarono un lunatico, forse un ubriaco e lo lasciarono andare. Soltanto quando fu andato via, D si ritrasse dalla finestra, dove io lo avevo seguito subito dopo essermi assicurato l'oggetto cui miravo. Alcuni minuti dopo lo salutai. Il presunto lunatico era un uomo che aveva assoldato io. Non capisco quale fosse il suo scopo, disse, nel sostituire la lettera con un facsimile. Non sarebbe stato più semplice prenderla direttamente e andarsene fin dalla prima visita? Deve sapere che D, rispose Dufain, è un uomo molto violento. Un uomo di innerbo. La sua casa, poi, è piena di servitori devoti ai suoi interessi. Se avessi fatto lo scritteriato tentativo da lei suggerito, non sarei uscito vivo da quella casa. La brava gente di Parigi non avrebbe mai più sentito parlare di me. Ci ho detto, ma avevo altri buoni motivi. Lei conosce le mie simpatie politiche. In questa azione ho voluto comportarmi come un partigiano della signora derubata. Per diciotto mesi il ministro l'ha tenuta in suo potere. Ora il rapporto è invertito, visto che lui non sa ancora di non avere più la lettera e intende proseguire coi suoi ricatti. Muovendosi segnerà inesorabilmente la sua fine politica. La sua caduta, oltre che precipitosa, sarà ridicola. Si parla con molta facilità del Facilis Descenus Averni. Ma in fatto di scalate si può dire quello che la Catalani diceva del canto, che è più facile salire che scendere. In questo caso non ho nessuna simpatia, tantomeno pietà per chi cade. Di è il vero mostrum horrendum, una morale uomo di genio. Confesso però che non mi dispiacerebbe conoscere i suoi pensieri quando, sfidato da quella che il prefetto chiama una certa persona, sarà costretto ad aprire la lettera che ho lasciato per lui nel suo portacarte. Come? Vi ha scritto qualcosa di particolare? Chiaro, avrei dovuto lasciare l'interno bianco. Sarebbe parso insultante. Una volta a Vienna di Mittero un colpo basso, io con grande cordialità gli dissi che me ne sarei ricordato. Prevedendo la sua curiosità sulla persona che lo ha fatto fuori, ho pensato che sarebbe stato un peccato non lasciargli almeno un indizio. Conosci molto bene, la mia calligrafia è così. Al centro del foglio bianco ho copiato queste parole. In un senso è funeste. S'il n'è digno d'attrè, è digno di tieste. Le può trovare nell'attrè di crie bianco. Grazie. Grazie.